Musica In suo volume delle economie europee di Cernobbio, la Sardegna è protagonista di un progetto nazionale per l'insediamento di un impianto di energia eolica in mare, che diete attivare in Italia una produzione in annanta dei docenti che in bantacchi in 2 miliardi di euro e dare traballo a 1,3 miliardi di persone. E su chi stessi accampi sinteri di questa presentazione di un progetto a Maniauda e di European House Ambrosetti, in collaborazione con Renantis, Blue Float Energy, Fincantieri e Acciaieri d'Italia. Intro su due a mizze 30, stata da per definire una pianificazione strategica di su mare, avviando questa autorizzazione e esplosso il potenziamento delle rette elettriche italiane. In Europa abbiamo su 70% delle potenze installate su mondo. Da Danimarca è stata prima a fravicare in su 1991 un parco eolico in mare. A Gran Bretagna è inaugurato in su due a mizze 22 un parco eolico in mare per mani su mondo, quindi una potenza di 1,3 gigawatt. Su Global Wind Energy Council, nata a Chiesitalia, di a poter diventare su etre mercato mondiale. Ed è un'indagine vata da su Politecnico del Torino su parco eolico galleggiante nazionale a sviluppare una potenza di plur di 207 gigawatt. Entra i zasari al territorio italiano, che in plus possibilità del sviluppo, hanno 6 altre regioni, Sardigna, Sicilia e Puglia. Come adesso è stato in capo a suo governo regionale in Beniente in su due a mizze 30, però, depimmo su decidere e nuota a estentare a ribare. Eris Isar, delegazione Erdesar, che non esiglia la schivacca in parte di su Campo Largo, hanno avuto una terra a dobbio. Campo Largo, motivo mese a demolentare, gli schivi e pari centro-sinistra, Movimento 5 Stelle e Indipendentistasa, in Pinnaus, in cui sta schivacca a iscrivere e definire su programma di presentare, a sa selezione regionale, che hanno a essere in frevagio di su due a mizze e binti battoro. Questo portapuro pare che sia una concordese e compatto, che è il suo obiettivo di ragionare, analizzare il suo problema di Sardigna, e proponere a i suoi elettori su chi è una faccia che si protorrerà a ponere in moto Sardigna. Comenta a now Cesare Morricone di su PD, apposte il suo disacatto che è la sanno di su Presidente Solinas, il suo assessore suoso e la maggioranza del centro-destra. Prozucchi per tocca su nome e nel suo candidato a Presidente, in Bezzergalo non si schiennuda, può dare chi è stato a campo in Sant'Andria, che andranno a presentare il suo programma definitivo. Comune di Sardigna, a tapicare belle 10 milioni in manco, Casteldu 62, Nugore e Aristanisi, Bintunu, Undichi, Terranova e belle 22 in manco a Tattari. Interessa orfinza su scomune e spurminorese. Un utente importante è pro economia Sardam, scamente si esudinare non si recupera, tanata si il viola e, pro su ministro vitto, ordinare che si attra recuperare, che in suo punto di sviluppo e coesione, ma non si schiennuda di proso. Su deputato di Sopidia accusa Sassio della regione, chi può decaionare sul ritardo della sopera se peri, sa possibilidade, chi custa un mese un miliardo in manco lupicca in desorfinanziamento europeo, schizunza i stasi stabilioso. Poliziotto spenitenziario, operatore sanitario, detenuto, scrompio, so iacaraos, proneche di una secureza, pacco adeguata, in soscarcere sardos. La organizzazione sindacale di polizia penitenziaria in Sardegna si torna a battagliare per una sanità penitenziaria e sosproblema suoso. La sigla riunia da OSAP, FNS, CISL, CGL, FPP e CNPP ha nato riscritto a sassessore regionale della sanità e a direzione generale della ASL del Castello per l'indistituzione del reparto detentivo in sosi spitali provinciali. Sono detenuti psichicamente fragili del sistema carcerario in introdesas struttura si sfocano su malessere solo contro gli agenti o gli detenuti che in conseguenza si abbrano drammatici. Sono detenuti del sistema sanitario penitenziario scrive il sindacato di polizia dove mancano gli speciali stanno si depeneva che visitano il ricovero in sosi spitali sponendo in pericolo i pazienti comuni. L'unica struttura adatta in Sardegna è in capoterra che in sé chi è posto a disponimento ma sempre sprena a fronte di tutti detenuti psichiatrici che non hanno bisogno. Il sindacato spedano di parare fronte imprese a questo problema che pertocca la comunità che vive e traballa in sosi carceri e che si intende sempre spruzata abbandonata e costrinta a condizionare il traballo mezzanas. Sa spessones che vengono in guerra violenze e psichissione schiercano un luogo sicuro e su tanto di chi è da spessones che pedini asilo crescete anno che in anno. Se ex un vento di sopra del cappuccino di Tattari diventò un centro di accoglienza a pro-migranti. A postare questa richiesta di queste istituzioni la solidarietà di Diocesi di Tattari e di Archipiscano Gianfranco Saba ha una risposta a s'appello della prefettura ponendo a disponibilità di un rifugio un luogo sicuro gestito da Caritas di Ocesana diretta da Antonello Spano. Su centro operativo da Pro-Di-U-Mese potete ospitare 60 migranti e ha due sezioni distintas una pro-sormannoso e una pro-sorminore schi non sono a companzaoso. Grazie a tutti!